Michele Borgia, presentate questo nuovo progetto qui alla BCC Abruzzese, il progetto dal nome Officine della Salute e che si avvale ancora una volta dell'appoggio dell'Abruzzese Salute Mutua. Abbiamo cercato di fronteggiare le difficoltà che le famiglie in questo momento storico continuano ancora ad avere, soprattutto le famiglie socie e clienti della BCC Abruzzese, attraverso la mutua. L'Abruzzese Salute è la mutua costituita dalla Banca di Credito Cooperativo abruzzese. È un'iniziativa che tende a prevenire eventuali patologie di varia natura. È un sistema che cerca di mitigare tutte le difficoltà conseguenti alla scoperta di patologie tardive. Abbiamo stipulato un accordo con il poliambulatorio Stenella, che è uno dei più qualificati poliambulatori abruzzesi, in cui lavorano medici di altissima elevatura professionale. E questa circostanza permetterà a 70, fra i soci e clienti della Banca e quindi della Mutua dell'Abruzzese Salute, di poter beneficiare gratuitamente, in alcune date specificate, secondo un programma patuito con il poliambulatorio Stenella. Potrà consentire quindi a 70 nostri soci e clienti di beneficiare di questa attività in maniera completamente gratuita. Quindi i soci potranno chiamare un numero di telefono che sarà indicato loro sul sito della Mutua e sul sito della Banca e contattare il personale di Stenella direttamente, prenotando a nome dell'Abruzzese Salute. Grazie.